Presidente partiamo dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, pace fatta all'interno del PD però pare che qualche strascico sia rimasto soprattutto tra i partiti che fanno parte della maggioranza che lei a suo tempo ha allargato. Sì è fotografia giusta, abbiamo provato a sottolineare il valore aggiunto dell'unità di una forza politica che è un po' baricentro di un luogo ampio che si chiama centrosinistra, il PD lo è, Vito Santarsiero è una persona esperta, spendibile, seria sul piano tanto politico quanto amministrativo ed ha concorso la sua elezione a creare un clima di serenità che in questo momento rappresenta valore aggiunto per tutti. Gli alleati che con me hanno avuto sempre e continueranno ad avere sempre un rapporto di proficua collaborazione trovano nel PD un alleato straordinario, una spalla straordinaria e continueremo insieme a lavorare tanto sui programmi tanto sulle cose che dovremo fare ma anche sul piano dell'agibilità e della visibilità noi abbiamo soltanto bisogno di ragionare insieme di accompagnarci insieme per un periodo ancora lungo e per poter affrontare con soddisfazione legittima da parte di tutti dunque anche da parte loro le sfide prossime. Presidente, a proposito di sfide prossime, lei è tornato spesso su un concetto che è stato recuperato a suo tempo anche dal segretario del PD di recuperare il rapporto con i cittadini, con le comunità. Cosa è che è mancato nel passato perché questo problema si riproponga? Guardi, sfonda una porta aperta perché io sono un uomo che viene dalla terra, nel senso ho sempre vissuto la mia vita professionale e politica cementando il rapporto con i cittadini. È evidente che quando assurge ruoli di impegno come questo le carte, le emergenze, le riunioni non sempre ti consegnano e ti consentono di avere un rapporto diretto con i cittadini. Bisogna ritornare nuovamente sui territori, lo sto facendo, con grandissima soddisfazione e con grande piacere e penso che la politica debba tornare o irrobustire quel tratto che ha sempre distinto un'azione positiva e riformista, l'ascolto dei cittadini, l'ascolto dei più deboli, dei più umili, del bisogno e provare a sintonizzarsi con una società reale, non con una società virtuale. E dunque usare la nuova tecnologia per dialogare ma anche la stretta di mano, lo sguardo che ti deve riconciliare con l'altro. Mettersi in sintonia, forse qualcosa non ha funzionato se riscontriamo che molti lucani non hanno ancora compreso il lavoro che la regione ha fatto per risolvere i problemi. Ma lì c'è un tema che riconosce molteplici motivazioni. C'è stata una comunicazione, la nostra, che è andata in una direzione. C'è stata la controreazione e la controcomunicazione che ha fatto la sua, per cui oggi una notizia anche non vera, a furia di ripeterla, rischia di diventare vera. Poi c'è una società che negli anni è stata imbottita di tritolo, alimentata in maniera smodata nel bisogno e nel disagio che avverte, è segmentata e diventata una sorta di bomba ad orologeria. Il conflitto è nato con le istituzioni, con la politica, che è diventata, come dire, il nemico numero uno, il nemico pubblico, al di là se facesse bene o male. La controparte. Diciamo un po' la controparte, un po' questo vezzo che c'è oggi, questa abitudine quasi a dire tutto va male, è tutta una schifezza, sono tutti corrotti, sono tutti, come dire, menefreghisti. Invece no, c'è una parte non buona della politica, delle istituzioni come della società, ma c'è anche una parte sana, che ha intenzione di lavorare e di mettersi a fianco dei cittadini, ed è quella che io voglio provare a personificare. Ecco, il PD con la nome del nuovo segretario è diventato, diciamo, un elemento determinante per portare la battuta in politica, ovviamente nel rispetto degli altri partiti. Però più di qualcuno è convinto che il vero regista, il Deus Ex Machina, sia Pittella. Se non lo decide Pittella non si fa nulla, si ritrova in questo ruolo? Assolutamente no, io mi sono ritrovato per molti anni senza partito, questa è una verità. Nella fase peggiore della transizione politica e istituzionale italiana, della crisi dei partiti, anche della crisi dei corpi intermedi. Per cui io mi sono trovato, anche per carattere, ad essere più decisionista di quanto normalmente sia. Perché nella vita istituzionale rinviare i problemi e le decisioni sui problemi significa creare una palude. Io non potevo permettermelo e ho provato a decidere sempre. Non sempre ho fatto bene. E' evidente che però in questo sforzo, tanto politico quanto programmatico, quanto amministrativo, è evidente che ho consegnato nell'opinione pubblica e nella percezione l'idea della determinazione del decisionista. Oggettivamente io faccio la mia parte e un presidente ha una parte anche significativa. Nel bene e nel male, spero sempre nel bene e sicuramente in buona fede. Il resto lo deve fare altra persona e altre persone che svolgono adesso una funzione determinante, indispensabile, che è quella più politica, che non tocca in prima battuta alla mia persona. Ecco, Presidente, una domanda che non possiamo non farle. Avremo un pittellabis. Guardi, io ho dato disponibilità al partito e alla società, perché io parlo sempre ai cittadini, ovviamente al mio partito, per cercare di, come dire, di essere sereni nella scelta migliore. Perché bisogna essere uomini nelle istituzioni sempre, d'inverno e d'estate, cioè nella buona e nella cattiva sorte. E so che, a partire dal mio segretario di partito, ci sarà un ascolto anche molto approfondito della nostra società, per come è articolata non soltanto dei partiti, ma dei cittadini, per comprendere e per consegnare alla decisione nostra quale soluzione migliore si proponga per il Consiglio regionale prossimo. Pittella? Se sarà Pittella, io la sfida la prendo, la recupero e la rilancio. Non sarà Pittella, io darò il mio contributo, perché è giusto che sia così. Nello stesso tempo, e chiudo, io sto lavorando giorno per giorno sulle emergenze, sulla programmazione, sul bilancio e sui nodi ancora non sciolti, e soprattutto sull'anello più debole, penso alla forestazione, al TPL, penso ai consorsi, penso ai giovani, per esempio, e alla loro disoccupazione. Ecco, continuo a lavorare e continuo a solcare il nostro territorio per provare anche io a sentire con grande umiltà il pensiero dei cittadini, delle persone più semplici, che possono essermi di conforto anche in una valutazione personale. Ecco, Presidente, a questi problemi si riuscirà a dare una risposta prima di novembre? Ci proveremo a partire dalla finanziaria, se le risorse economiche ci consentono di farlo, ma su tante questioni ci stiamo lavorando da tempo, per cui alcuni nodi, diciamo così, sapremo scioglierli, perché sono oggetto di studio, di approfondimento e anche di ipotesi di soluzione già da tempo. E concludo con una domanda che forse dovrei fare al segretario del partito e non a lei. Si riuscirà da qui a novembre a ricombattare la sinistra per fare un discorso insieme e fronteggiare quella che è la realtà politica che si sta creando in Italia? Guardi, questo è il mio augurio e la mia parte la farò in accompagnamento al lavoro importante che farà il segretario regionale Mario Polese. Aggiungo, attenzione, noi abbiamo bisogno di rivolgerci molto anche e soprattutto come forze cattolico, laiche, riformiste di sinistra, ai cittadini e alla società. Il nostro luogo non è quello che un tempo si immaginava delimitato da uno steccato per cui o quello oppure non esiste. Il nostro luogo sono anche i cittadini, i luoghi del bisogno, le aree del bisogno, i liberi professionisti, il mondo del sindacato, il mondo dell'imprenditoria, il mondo della scuola, il mondo della famiglia, cioè c'è, la nostra attenzione va rivolta, io credo, ad un centro-sinistra che sappia recuperare a sé il portato straordinario di un mondo vasto e di una società che può sprigionare grandi energie.